Guido Guidesi, la Liga Nord vuole vederci chiaro sul decreto legge dell'IRPEF? Noi soprattutto vogliamo vedere il decreto, visto che venerdì è stato presentato con la solita conferenza stampa in toni spettacolari dal Presidente del Consiglio, ma ad oggi i mitici 80 euro non sono scritti da nessuna parte, perché il decreto non c'è, non c'è ancora e probabilmente stanno arrabbattandosi per trovare le coperture che servono. Un decreto che secondo voi è soltanto uno spot per le elezioni europee? A posto che 80 euro in più fanno bene a tutti, però è uno spot per le elezioni europee perché è una misura una tanto, non è una misura strutturale e comunque da qualche parte dovranno trovare questi soldi e qualcuno ce li metterà per forza e secondo noi questo qualcuno saranno ancora le famiglie che o con le imposte locali, con la Tasi, con tutte le imposte sulla prima casa che hanno messo da un'altra parte o sulle imposte sui conti correnti la pagheranno ancora le famiglie.